Nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l'80% sarebbe ancora consumabile. Se fosse infatti possibile recuperare gli sprechi, questi sfamerebbero 2 miliardi di persone al mondo. Con il cibo buttato vengono infatti sprecati anche la terra, l'acqua e l'ambiente. Ridurre lo spreco di cibo significa salvare il pianeta. Aiutaci anche tu a combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze. Grazie a tutti.